Non sempre è possibile fare tutto per tutti. L'importante è cercare di trovare dei palliativi, cioè delle cose che possano aiutare in altro modo per avvicinarsi, ad esempio come in questo caso, al centro. Lei dice che mettono a posto le altre strade. Grazie, va bene, però magari devono allungarla di molto. Allora, l'unica soluzione possibile, e questa l'hanno valutato anche quelli delle associazioni dei diversamente abili, era non farlo. Il Comune ci aveva detto che comunque vi ha prospettato due alternative. La prima era facciamolo subito senza la possibilità di passaggio per i disabili, così com'era, o aspettiamo, ci vogliono più anni, ci vogliono più risorse, però c'era un'ipotesi bis per i disabili. Ma sono state valutate tutte quante le ipotesi. Come mai lei ha valutato quest'altra? Non io. Le associazioni dei disabili e i presidenti di tre quartieri, tra i quali c'ero anch'io, hanno valutato che bisognava aspettare il tempo per espropriare i terreni attorno. Poi bisognava prendere in considerazione... Non è che è passato poco tempo per quel ponticello. Sono passati tanti mesi e quindi forse aspettare un po' di più non conveniva? No, allora, hanno aspettato due anni prima di fare questo incontro. Dall'incontro che era stato fatto si era detto che in un anno si può fare. Oppure si può aspettare... L'unico modo potrebbe essere l'unico, quello dell'elevatore. Si impegna per l'elevatore? Il Comune ha detto che trovando i fondi e trovando, attenzione, dopo la disponibilità, perché non si tratta per farlo, sarebbe il meno... Poi, attenzione, deve funzionare sempre. L'utilizzo di quella passerella è stato un po' un in più, ma non è una cosa necessaria. Certo che però quando si parla di superamento delle barriere, dire un in più risulta anche un po' strano, no? No, certo. Averlo potuto fare, le ripeto... Sarebbe stato meglio o no? Ma ci mancherebbe altro.